ciao a tutti amici benvenuti bentornati su neta company oggi 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 che prospettiva già io buon io non lo so alla prima volta che sono qui bene allora leggi il contratto no non è il contratto non firma niente ma è 130 sordi in un giorno altrimenti vogliamo c'è sia un po di grado arido come la cosa si è che cazzo e che cazzo venite venite e natale io non vedo niente ma qui così a chi è uno di due ma guarda guarda quanta neve ok 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 non c'è niente eh cos'è no è una valvole a mangiare un brutto presenti nanti Sì, 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 sì. Oh no, poi c'è la nebbia. Corri, corri, corri! Corri! Non so come ho fatto a trovare la via di casa. Io vedevo un meglio le bombole di Matteo, ho detto ok, corro, seguirò quello. Voi avete sentito che mi è una maschini. Ovviamente. Sono caccato in mano, sono due i primi. Riga, riga la... Ma, ma com'è il più paranoico? Ma che furtile! Perché hai gridato? Ho capito, no? Sì, sì, ha cagato una vecchia partita. Prendi la roba, già. Dobbiamo vendere. È il motore. Non suonare. Buonasì. Perché non dovrei suonare il campanello dopo tutto? F, non più. Va bene, a 103, a 156, potranno tenerci al massimo a bottiglia e in altra cosa. Ma, il nostro è stato fatto. L'ho visto, eh? Bene, bene, bene. Let's go. Switch camera. Ma è disruccio. Oh, f***. Qua è chiuso la porta. Qui ce n'è un'altra. Aspetta che lo figlio. Ho sentito il rumore che stiamo. Dove siete? Io sono pieno. Oddio, che paura, mo. Grazie, non sto a capire che te. C'è una cosa sopra. Allora. Sto avendo io. Perché dobbiamo? Dobbiamo trovare l'uscita. Questa è chiusa. Chiuso la chiave? Aspetta, ce l'ho io. Aspetta, ce l'ho io, bottiglie. Io sono pieno. E' pure io. Oh, incremento che guardi? Eh, sono le attenzioni perché... Ma andamocene. L'ho sentita? Presto, presto. Eccolo, vedi? Mannaggia. Regà, mi sto correndo, non lo so. Guardi, guardi. Il giornalista, ti prevede? Eh, devo muovere tanto, non lo so. Non lo sento lontano. L'amore. Bocca. Cazzo. Oh, mamma. Che cazzo è? Eh, è il colpo. Guardi. No. No, da che parte si passa? Eh. Allora, noi siamo venuti da di qua. Questo è stato messo lì e laggiù c'è stato dal verso. No. Sta laggiù. Che cazzo è che corre? Che cazzo è che corre? Corriamo. Cazzo. Allora, guarda, l'è morto lui. Steering wheel. Oddio. È finita. Cazzo, se l'hai maglietto. Mi sono cagato in mano. Mi aiuto qua. No. No. Ah, mezzanotte. Oddio, cos'è la buona? Hai visto? Dunque, ma te ha questo il tuo corpo. Che mi hai scoperto qua? È vero? È impiccato. No. 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 Cazzo è uscita. Oddio. Che panfancazzo. Ecco. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Noi ci vediamo. Su un prossimo. Ciao ragazzi.